Giornata di lutto per Cremona. È scomparso Filippo Spigaroli, 52 anni, volto noto per la cittadinanza, anche perché aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1999 al 2004. Si è spento questa mattina all'ospedale San Raffaele, dopo aver combattuto contro un brutto male. Filippo frequentava la Baldesio, i suoi conoscenti lo ricordano come una persona caparbia, solare e disponibile con tutti. Si era sposato circa un mese fa con il suo compagno di vita, Simone. Grande amante dei viaggi, aveva anche fatto il Giro del Mondo, che lo aveva portato nelle località più suggestive del globo, un'esperienza memorabile lunga due mesi che avevamo documentato nella trasmissione In Viaggio con Filippo. Oggettivamente il Giro del Mondo mi aveva portato a una forma strepitosa, perché avevo degli addominali dove si potevano tenere le monetine attaccate, che è un po' l'ambizione di tutta la gente che fa palestra, quindi stando a sushi, riso in bianco, quasi come stare sull'isola dei famosi. La camera ardente sarà allestita da mercoledì 11 settembre nella clinica di San Camillo.